ciao ciao ragazzi bentornati sul canale del day gioco ci qui siamo con per rockrolling oggi porto questo video perché c'è stato un po di c'è stato un po di aggiornamento appunto del del gioco andiamo a vedere insieme allora la schermata principale non mi ricordo se era così oppure no sono sincero e già è già da un po che non vado a vedere questo titolo proprio perché non ce l'hanno stati aggiornamenti andiamo a vedere tanto i veicoli sono due questo e questo qui che io ho già dato un po ho già dato un po una forma particolare vi faccio vedere perché perché si può andare a ritoccare col tuning alcune cose tipo le balestre altezza delle balestre la larghezza vedete qui del dell'asse o meglio delle ruote sporgono di più o di meno in questo caso e qua la regolazione delle sospensioni poi bisogna vedere nel gioco vero e proprio come andranno a comportarsi le vetture ora la lasciamo così altra cosa che si può fare era modificare appunto la vettura quindi con la customizzazione vedete qui ci sono le varie parti già che si possono acquistare al momento non so quanti crediti abbiamo comunque probabilmente queste sono tutte cose che abbiamo queste in verde questa per esempio cargo bed è una cosa che si può acquistare però qui ti dice che non è il massimo per il rock rolling quindi per il momento lo lascerei stare ok e poi il pen shop che è quello che sono andato a fare appunto giusto per provare un attimino a vedere che cosa era stato aggiunto qui alcune di queste cose probabilmente non le avevamo viste ma c'erano già con i primi i primi video potevo già inserire qualcosa di questo tipo però lo andiamo a vedere oggi appunto qui si può cambiare il colore vedete del mezzo lasciamo questo per il momento e un'altra cosa importante che è stata inserita e l'utilizzo del volante vedete qui io ho già fatto qualche prova e adesso ne vederla insieme perché è stato si inserito l'utilizzo del volante però non si può utilizzare tutto quanto quindi per esempio il cambio ad h non si può ancora utilizzare perché la periferica si può selezionare appunto solo una vedete qui io ce l'ho già ce l'ho in attivo però non si può selezionare quindi in questo caso vado a selezionare il trasmaster il t500 che in occasione appunto di pure rock rolling lo rivediamo con la sua corona originale è corona che ho usato pochissimo penso e niente qui si vanno a impostare appunto gli assi 1 e 2 in questo caso l'asse 2 l'acceleratore l'asse 1 e il freno però andremo a vederlo questo è una cosa che sicuramente andrà rivista perché con uno si accelera con l'altro praticamente c'è la retromarcia non è un vero e proprio freno e qui la regolazione del false feedback in realtà anche qui la regolazione più dopo le prove fatte sulla forza che c'è che ti restituisce diciamo il volante ma non tanto nelle nei movimenti nelle vibrazioni andiamo a vedere quindi nella carriera eravamo arrivati se non sbaglio forse qui no livello 4 richiesto quindi eravamo arrivati qua dobbiamo fare questo stage andiamo a vedere il terzo stage quindi e lo vediamo proprio con il volante ok quindi andiamo a vedere la carriera vediamo dove eravamo rimasti se non ricordo male eravamo rimasti qui infatti stage 3 andrei a provare appunto questo stage con la novità del volante vedete qui ecco ora sto schiacciando il freno la macchina in realtà va indietro non frena schiacciando l'acceleratore va avanti quindi c'è già questo questa cosa un pochettino particolare lo proviamo come ho detto con la nuova c'è la nuova corona in realtà è la corona originale del T500 RS viene di provare a partire così da fuori e vediamo un pochettino poi c'è sicuramente la visuale interna attenzione si va a toccare qua proviamo a vedere la visuale interna ok ora dobbiamo individuare l'altra porta ok qui seconda la vedete lì in alto nella bussola è segnata con il numero 2 colorato attenzione allora cosa da apprezzare sicuramente il fatto che i lavori stanno andando avanti e come vedete qui almeno lo sterzo funziona non funziona il force feedback nel senso che l'unica regolazione che si può fare è sulla durezza del volante ma non ci sono migrazioni non c'è nulla attenzione qui a questa porta difficile da passare infatti abbiamo toccato ecco una cosa difficile è attenzione ok una cosa difficile è guidare dall'interno cioè passare queste porte dall'interno praticamente è quasi impossibile ora vediamo dove è l'altra porta di qua c'è una di qua ok dobbiamo salire vediamo se riusciamo a non toccare i vidi ma già così non vedo dove sono quindi la andiamo a toccare ok questo è un po' una stage così ragazzi ecco l'altra porta ce l'abbiamo qua davanti io appena non la vedo però basso esterno sembra un po' meglio il terreno ok qua siamo proprio su questa roccia gigante facciamo il giro intorno non c'è la possibilità di cambiare marce quindi anche questo è un po' una limitazione attenzione qui ora decisi no non serve andare più decisi vediamo se riusciamo a passare in un altro punto qua sono i semi delle ruote qui vediamo se ci riusciamo eh si va di nuovo a toccare il grillo ci siamo incastrati qua l'altra porta lì sulla sinistra vediamo dove passare e la porta la troviamo qua e però anche qui è impossibile perdono a passare ma qua ce l'abbiamo fatta miracolo una porta passata senza aver toccato attenzione qui ci siamo incagliati dobbiamo vedere dall'esterno e qui ci siamo bloccati ok col tasto R si va a fare questo salto che non volevo fare in realtà c'era la modalità quella che se ricordate l'altra volta si poteva praticamente andiamo e andiamo a toccare anche questo in pratica si poteva fare tipo un un salto con il furgone con la macchina attenzione qui al trapporto davanti a noi proviamo a seguire l'otto lassù in alto vediamo se riusciamo a passarlo senza toccare no abbiamo toccato tutte e due qui non so dove andare andiamo a passare di qui vediamo se riusciamo a vedere quanto è tolta nel frattempo laggiù dove sta via ho gli altri ok qui c'è una porta alla 9 eccola qua e non so se faremo in tempo siamo a 26 secondi con il volante al momento ragazzi è difficilissimo riuscire a passare questi questi stage sicuramente c'è da lavorare ancora su questo gioco però come detto vi ho voluto portare questo piccolo aggiornamento dall'esterno un po' meglio ma comunque siamo andati ugualmente a toccare tanto la porta 10 non è qua ma è più indietro comunque niente non ce l'abbiamo fatta 9 coni toccati 9 porte passate su 10 vediamo se ci fa passare una stella sola se possiamo passare al next stage quindi si si passa al next stage però ragazzi direi di uscire andiamo al menu iniziale quindi direi di salutarci qui per il momento e ci rivediamo come ho detto anche le altre volte con i prossimi aggiornamenti appunto di questi di questo gioco che sembra anche se lentamente andare avanti che dire fatemi sapere la vostra qua sotto intanto io vado a modificare questa questa vettura più piccolina sicuramente più adatta a certi terreni ok niente fatemi sapere la vostra ragazzi fatemi sapere se vi è piaciuta bella anche rossa la lascerei rossa io questa e niente ditemi la vostra su questo gioco ditemi la vostra su quello che vi può sembrare appunto per il futuro aspettiamo altri aggiornamenti un po' più sostanziosi io vi saluto qui ragazzi grazie per aver visto il video ci vediamo alla prossima ciao dal Dejo